tre gol eccole le barche che abbiamo incontrato nel porto di sorrento stanno approfittando di questo vento per conoscere il mare e le brezze del vento a 24 ore dalla partenza che avverrà domani pomeriggio alle 17 gli equipaggi escono in mare per le ultime messe a punto delle leve, dei verricelli e soprattutto della conoscenza di questo meteo particolare Sailing Week sorrento impegnata sia sul mare che sulla terra sulle nostre teste svolazzano gli elicotteri del Giro d'Italia la 3 Golfi Sailing Week parte domani alle 17 da Castel del Lobo a Napoli raggiungerà Ponza dopodiché Ponza, Capri, Isola dei Galli e arrivo a Sorrento dopo una giornata e mezza o due di navigazione anche in notturna